Siamo con dei giovani di Cogliavvolturno, anche della zona, ragazzi allora tu sei Nicolò, tu? Vincenzo, Cristia, Vincenzo, Umberto, allora prima Nicolò avvicinati un po' perché sennò abbiamo... è bello avere una piscina qua a Cogliavvolturno Eh, dopo... cioè noi andavamo sempre al fiume invece noi hanno aperto la piscina senza che andiamo a altre parti Forza qua, qualcun altro ha qualche opinione, vai Ah sì, no, sarà una bella scelta farla perché... Cioè... cioè... comunque non si possono venire tutti i ragazzi qua, tutto qua, senta che andiamo al fiume a Vincenzo, va Sì, mi piace molto anche a me questa iniziativa perché c'è comunque in un paesino, è bella piscina poi è anche bella grande Umbertina, Umbertina per quale? Allora, una piscina a Cogliavolturno, da mamma e papà ti devi fare accompagniamo Sì Ma tu da dove vieni? Da Cerro a Volturno Tu sei a Cerro, quindi mo' c'hai la piscina a 5 minuti da casa, ogni giorno mamma portami a Colli perché voglio andare in piscina Ok Ma tu sei a nuotare? Sì Ok, grazie Tanti giovani in inaugurazione della piscina comunale di Colli, siamo con Siepino, Siepino è una bella cosa vedere questa piscina aperta finalmente, sarà anche un posto dove incontrarsi Sì, sicuramente è un luogo in cui sia i giovani di Colli che comunque i ragazzi della Valle del Volturno, della provincia di Sernia e anche fuori possono venire a, possono goderne appunto una cosa che a Colli non c'era e che farà sicuramente un gran bene a livello sociale Poi è un progetto comunque in base di sviluppo, di miglioramento